Musica Cara Alessandra, ma lo senti questo meraviglioso profumo di primavera? Stefano, ma è ovvio, siamo allo Spring Break targato Mocos, sempre qui al Mama Ines Questa sarà una serata che darà un taglio alla stagione invernale per proiettarci verso una fantastica estate E allora cosa dirvi? Dalla giraffa, da Stefano e da Alessandra, queste notti brave A voi le immagini Musica Questa sera per il Mocos Sunday Aperitive festeggiamo finalmente la fine dell'inverno con questo Spring Break Sì, è arrivata la primavera, finalmente un po' di calore, un po' di sole, quindi stasera festeggiamo questo Spring Break Ovviamente ispirato a questo momento che è il cambio di stagione Ma soprattutto stiamo preparando le valigie? A Palinuro, quindi nel Cilento, avremo questo evento domenica prossima che è Pasqua d'Italia al Ciclope Un appuntamento con Cadenza Showcase, quindi grandi ospiti con Michael Craze e Argi Animazione Mocos Io so che già le prenotazioni stanno impazzando, però per chi volesse ancora unirsi a questo meraviglioso evento come si fa? Ora, sicuramente contattandoci attraverso il referente Mocos di Piducia Alternativamente ci possono contattare sulla nostra pagina Facebook che è Mocos Aperitive Grazie sempre Alessandro, in bocca al lupo per il futuro e ci vediamo ovviamente settimana prossima per tutta la programmazione Mocos Vi aspettiamo ogni sabato sera al Private One con il set Sato dei Mocos e ogni domenica al Mama Ines con il Mocos Sunday Aperitive Weekend prossimo Pasqua a Palinuro, non ci resta che divertirci, grazie di cuore a tutti quanti voi, vi aspettiamo Ciao, grazie Massimiliano, questa prima domenica primaverile non poteva che intitolarsi Spring Break Come ogni anno Mocos Staff organizza questo Spring Break che è questa festa pazza primaverile Tutti i fiori E quindi devo dire risponde sempre bene anche questa serata Pausa di primavera perché introduce il mese di aprile che insomma ti prevede veramente un bel rush finale di questa stagione del Mama Ines E quindi insomma veramente contento, saluto a voi, notti brave, saluto a Stan e a tutti gli amici del Mama Ines Ciao